Bene, buongiorno a tutti quanti voi, oggi 13 marzo, siamo di venerdì, io non ho la febbre questa mattina quindi direi che le cose stanno procedendo per il meglio rispetto a questo coronavirus che potremmo dire per quanto mi riguarda, essendo molto fortunato, averlo sconfitto, facciamo le corna, le corna, di averlo sconfitto in diciamo domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, diciamo 5 giorni, 5 giorni e il coronavirus se ne va, insomma con una brutta influenza per quanto mi riguarda, questo ovviamente non riguarda tutto il resto del mondo che mi sembra che stia soffrendo per questo virus ben più di quanto sto soffrendo io, insomma, ma questo è un altro tema, siamo sulla zuppa di porro, lo sapete di che cosa si parla sulla zuppa di porro? Sulla lettura dei giornali e oggi dei giornali più che le questioni che riguardano i decreti, sì, il Corre della Sera dice c'è tensione sulle nuove regole perché le regioni vorrebbero avere più, come possiamo dire, più chiusure, norme più restrittive, poi ci sono le polemiche tra Salvini che dice, vorrebbe, non si capisce perché sono aperte le profumerie e quell'altro che gli spiega le profumerie sono aperte perché danno beni di prima necessità, insomma robe del cazzo come poche, scusate la parolaccia, cioè ma chi se ne frega, cioè il punto fondamentale è che siamo in una specie di precipizio economico, in un grande buco nero in cui abbiamo rinunciato alle nostre libertà, anzi ci hanno fatto rinunciare alle nostre libertà perché c'è un'emergenza sanitaria inequivocabile, ma non ci dicono per quando finiscono. Io vi chiedo e chiedo a tutti quanti voi, sempre come un marziano che è sbarcato a Roma, non ho assunto nessun farmaco Roberto, se non la tachipirina quando la febbre era 39, allora io chiedo a tutti quanti voi di riflettere su una cosa, oggi è il primo giorno, secondo giorno, il quarto giorno che siete bloccati a casa e non potete andare giù, non potete fare nulla eccetera, cercate per un secondo solo di capire quanto è facile perdere la nostra libertà, perdere la nostra salute è facilissimo e purtroppo le malattie ce lo stanno insegnando, ma immaginate, chiudete gli occhi e pensate quanto sia stato facile in pochi giorni, con pochi decreti, accettati da tutti, applauditi da tutti, anzi alcuni li vogliono ancora superiori, perdere le nostre libertà fondamentali, peraltro anche libertà di poter dire magari questo decreto non è giusto perché se qualcuno lo dice figurarsi voi si è morti. Oggi la Lamorgese, Ministro degli Interni, per farvi capire qual è il clima in cui stiamo vivendo, che è un clima drammatico, non c'è dubbio, ma la Lamorgese dice se necessario faremo altre scelte coraggiose. Toc toc! Coraggiose di che? Che c'è coraggiosa? Coraggiosa è limitare la mia libertà, che cazzo di coraggio c'ha il Ministro degli Interni? Coraggiosa di che? Non stai da sola con le mani a distruggere il virus come i medici negli ospedali, stai dietro la tua poltrona pagata da noi italiani e stai obbligando gli italiani a non essere liberi. Coraggiosa di che? Non c'è nulla di coraggioso in queste attività orrende che sta facendo un governo che può essere costretto a farle, può essere costretto, ma di coraggio non c'è nulla. Il coraggio ce l'hanno i medici e gli inferimeri che combattono con il virus, non il Ministro che limita le libertà. È chiaro? Anzi, c'è un'idea collettiva, siamo tutti d'accordo, ci piace a tutti questo stato di polizia, tranne a me che mi fa orrore. Di coraggioso non c'è nulla, nulla, va bene? Nel frattempo a Milano potrebbero fare un nuovo ospedale e sarebbe una cosa buona e giusta, l'avrebbero dovuto fare un mese fa, invece di fare misure coraggiose della minchia. E che cos'è? Un nuovo ospedale alla fiera e lì si sarebbe dovuto veramente, come possiamo dire, quella era una roba da fare sin dall'inizio. Come dico tutte le volte, il tema fondamentale è l'ospedalizzazione. Il fatto che questo virus si diffonderà, purtroppo ci sono pochi dubbi, ma bisogna ospedalizzare, cercare di capire come affrontare il problema che è negli ospedali, non in quelli a casa come me dopo 4-5 giorni gli passa la febbre. Su Arcuri, commissario straordinario, è fantastica, perché lì, lo scrive bene Claudio Antonelli, è l'unico uomo che potrebbe non dare ombre racconta, cioè una specie di monsieur, un nessuno, un burocrate, un boiardo, non perché lui sia nessuno, è un manager pubblico che ha lavorato in Deloitte, che va d'accordo con tutti quanti i politici, che come dice oggi anche il foglio, è uno che fa abbastanza bene, insomma un esecutore, ma che tutto è tranne che uno che prende in mano la storia e si assumono le responsabilità coraggiose di questo momento, coraggiosa, se necessario faremo delle scelte coraggiose, ma pensa tu. Poi l'altra cosa fantastica è l'economia, l'economia oggi vedo che c'è l'incontro con i sindacati, si parla di tutte minchiate anche qua, perché sono tutte robe che non servono a nulla, l'incontro con i sindacati a cosa serve? A zero. La defiscalizzazione, posto che qui non abbiamo neanche un euro d'incasso, voi mi dovete spiegare, chi se ne frega che vengono rimandate le tasse, chi se ne frega a posto che io non sto ricavando un euro? Il punto è, il mio barista qua sotto casa che ha dovuto chiudere, come compra, non la mascherina che non la trova, come compra da mangiare per la sua famiglia? Il tappeziere che non lavora più, come riesce a comprare e a far la fila al supermercato? L'idraulico, il manovale, il tassista, l'NCC, che non c'è più una persona che si sposta in città con gli NCC o con i taxi, ecco, loro come gli diamo una mano? Con la defiscalizzazione de che? Defiscalizziamo che cosa? Che non c'hanno i 50 euro per comprarsi un pezzo di pane, a meno che non ci avessero dei risparmi, allora se c'hanno dei risparmi si bruciano i loro risparmi. Insomma, direi che il tema fondamentale si chiama liquidità, poi leggi oggi l'Economist, il venerdì esce sempre l'Economist e ve lo traduco in italiano, la giusta medicina per l'economia mondiale, ti leggi il fondo dell'Economist e tu capisci che questi hanno il cervello in pappa anche loro, non dice nulla, nulla, dicono bisogna limitare il contagio, le solite cose che c'era bisogno, bastava veramente paperino per leggere, non sull'Economist che un tempo era un giornale serio, comunque aveva un punto di vista intelligente. Beh, l'altra vera grande cosa è questa deficiente, deficiente presuntuosa della Lagarde. Deficiente e presuntuosa, l'avete sentito bene? L'unica sua caratteristica è quella di sapere indossare i completi di Chanel, che paghiamo noi contribuenti europei, per dire solo cazzate. Ieri, durante la sua prima conferenza stampa, ha voluto fare la figa, questa deficiente, e i mercati sono crollati, come non è mai successo nella storia d'Italia, del mondo, in tutto il mondo, perché ha detto che il compito della Banca Centrale Europea non è quella di ridurre gli spread. Quando Mario Draghi, in una situazione meno disastrosa, ma altrettanto grave, come fu quella di anni fa, ve la ricorderete, beh, insomma, disse whatever it takes. Arriva sta deficiente, presuntuosa, che non ha mai lavorato in una Banca Centrale, che non sa che cazzo è la finanza, la sua unica carriera era quella di essere amica di potenti francesi e di aver fatto un accordo con i tedeschi, dice una tale minchiata, che oggi Financo Fubini, il più europeista dei nostri giornalisti sul Corriere della Sera, spiega che ha, come ti ho detto, ha ammaccato la sua credibilità, non ha ammaccato la sua credibilità, questa ha fatto peggio all'euro di pattuglie di centinaia di no euro, di minchiate, di exit, di cazzate che noi li abbiamo presi a calci nel sedere, ah ma Borghi ma cosa dici, ah ma Salvini ma cosa dici, ah ma voi siete pazzi, beh, insomma, questa riuscita a distruggere l'euro, perché il fianco sud dell'Europa è stata praticamente mollato da questa deficiente, che peraltro ha detto una frase, come racconta Fubini, che ha detto la consigliera tedesca, quindi lei che cosa ha fatto? Ha fatto capire non solo di aver detto una cazzata, ma di aver detto esattamente quello che dicevano i tedeschi, io quindi in questa specie di grande casino che è l'Italia, in questo grande casino che è l'Italia ci si mette anche una governance dell'economia mondiale affidata a questo asse franco tedesco con una pagliaccio Lagarde che è lì con il suo completino di Chanel per spiegarci come deve funzionare la Banca Centrale Europea e i tedeschi che come spesso avviene purtroppo non guardando più lontano del loro naso rischiano di far implodere l'Europa, lo dice un critico nei confronti dell'Europa, ma uno convinto che senza Europa dove cazzo andiamo? E questi cretini di Francoforte ieri hanno fatto, come dice giustamente il giornale, fuoco amico, ma si potrebbe dire di tutto su questa deficiente della Lagarde. In un paese normale, ma non è l'Europa, è un paese normale, una che fa un'operazione di quel tipo con i mercati finanziari distrutti, con gli spread distrutti su tutto il fianco sud dell'Europa si sarebbe dimessa, ma ovviamente tedeschi e francesi non faranno mai che questa donna si possa dimettere. Oggi è stato bravissimo Sallusti a ricordare come siamo, anche questa grandissima e straordinaria retorica, adesso che abbiamo due grandi donne, Ursula e la Lagarde, abbiamo risolto i problemi europei, li abbiamo aumentati dieci volte di più, una per la imbecillità della Lagarde e l'altra per Ursula che nel pieno dell'emergenza coronavirus, ce lo ricorderemo, tutti quanti, ha dedicato la seduta della Commissione a Greta Thunberg, tutti contenti che non c'è l'inquinamento. Io godo, voglio che non ci sia l'inquinamento e che tutti muoiano di fame, una bella Africa al posto dell'Europa, porca puttana. Macron cambia un po' idea secondo quello che scrive il Figaro e non solo il Figaro perché chiude tutte le scuole, nonostante basta vedere la differenza tra il Figaro e il Mond, il Mond chiude prima e il Figaro chiude più tardi e il Mond era ancora dell'idea che non si chiudessero le scuole perché il ministro dell'istruzione francese diceva no, si continua a studiare e invece Macron ha deciso di chiudere tutte le scuole. Johnson, come fanno gli inglesi, dicono delle cose incredibili, lo leggi su Daily Mail incredibili, nel loro tostaggine o tosteria o come cacchio si vale nel loro fatto che sono tosti e non girano intorno alle parole, che cosa dice? Abituiamoci all'idea che molti nostri cari ci lascino prematuramente, questo è il popolo di Dunkerque, il popolo che voi sapete come combatte le guerre. Trump nel frattempo fa il divieto dei voli nei paesi Schengen, cioè non si possono ricevere e andare nei paesi Schengen e quindi sono esclusi quelli che non fanno parte degli accordi di Schengen e ovviamente lo UK. Beh io dico su questa cosa di Trump su cui tutti quanti voi sarete indignati, ah Trump sto fascista eccetera, vorrei chiedervi una cosa, ma scusatemi noi non possiamo passeggiare per strada e pretendiamo di prendere un volo e andare a Miami, no me lo dovete spiegare, cioè il governo italiano non vuole che noi si possa andare per strada a far fare la pipì al cane, non possiamo andare a fare le spese, non possiamo fare nulla e ci lamentiamo se Trump chiude i voli non solo con l'Italia ma con tutto il resto dell'Europa Schengen. Eh direi che il minimo sindacale che si possa fare è semplicemente coerente con quello che stiamo facendo noi, cioè la morte scientifica dell'economia mondiale per i prossimi mesi. Nel frattempo siamo ben certi che con la Lagarde se le cose possono andare peggio andranno molto ma molto ma molto peggio e questa non è stata eletta, non è stata nominata, non è stata votata, insomma è il disastro, il disastro di questa elite europee che sono quasi peggio del nostro Winston. Ciao.